Musica Io vorrei che tanti ragazzi come me avessero questa possibilità di avere una persona accanto che gli vuole bene, anche se non vivono insieme, di aiutarli a orientarsi in un paese dove purtroppo non sanno niente, non sanno i loro diritti, non sanno come faranno. Quindi quello è il bello, che un giorno potranno riuscire a realizzare i loro sogni. Musica 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 Musica